ok ok adesso in automatico adesso va dentro e qui carica praticamente tutte fino a arrivare fino a qua quanto riesce a fare di spessore tanto è 1 mm 2 mm quello che si vuole ok ok così si ferma quando ho capito quando i piedi ok perfetto ha capito capito capito